cari spettatori del cinevirus un film da raccontare e possibilmente immaginare oggi vorrei parlarvi di Stanley Kubrick e allora tra i tanti film che tutti vanno bene di Stanley abbiamo scelto il dottor stranamore 1964 sono gli anni della guerra fredda est ovest e stati uniti russia l'incobo nucleare e Stanley decide di raccontare proprio questa minaccia che potrebbe distruggere il pianeta e lo fa in un modo assolutamente originale perché sceglie di mettere insieme il thriller e la commedia nera la follia di quello che sta accadendo in effetti c'è un generale impazzito americano che manda i bombardieri a bombardare la russia perché ha convinto che i russi stiano contaminando le acque americane c'è un generale targison che si eccita sessualmente il sesso è una delle chiavi di lettura del film a cominciare dai titoli di testa in cui un aereo cisterna rifornisce un bombardiere il generale si eccita solo al pensiero dei bombardieri che volando basso brucerebbero le penne delle ocche e poi c'è la war room questa specie di luogo folle in cui si discute su come fermare questi bombardieri che stanno andando verso l'obiettivo e il generale Muffley interpretato da Peter Sellers che interpreta anche un colonnello inglese e fra poco interpreterà anche il dottor Stanamore stesso e il presidente russo Kisoff e si parlano come se stessero all'interno di una soppe. L'unico problema che a un certo punto salta fuori è che tutti gli aerei vengono richiamati meno uno e a quel punto compare il dottor Stanamore che ha la soluzione. Mettere tutti gli uomini importanti e le famiglie importanti del paese dentro una sorta di miniera e salvarli con una impostazione vagamente nazistoide. Ma l'aereo del DJ King Kong Slim Pickens procede in perterrito e addirittura a un certo punto il pilota è costretto a scendere nel vano bombe perché un missile russo ha danneggiato l'aereo e precipita giù sull'obiettivo con tutta la bomba in un profluvio proliferazioni di esplosioni nucleari come se fossero delle bellissime torte e a sottolineare il carattere noir folle del film Stanley Kubrick decide di accompagnare il finale con una canzone cantata da Vera Lynn. Grazie mille. Grazie mille.